dove la via di fuga non ce n'è quasi, qui la barriera è vicinissima, ha bloccato un po' il posteriore Hamilton voleva rientrare ai box, ci propone Aurelio Astori, ma non la teneva e allora è uscito oppure gli han detto no stai fuori, stai fuori, stai fuori e ha richiamato dentro Valtteri Bottas